www.costamarinapeschici.it www.costamarinapeschici.it Michael sta bene, è normale che deve quattro giorni che si allena con la squadra, sarà nei convocati e dobbiamo solamente gestire un po' il minutaggio, però spero di poterlo farlo giocare, quantomeno per cominciare ad acquisire quelle sicurezze e quel ritmo partita che un po' gli manca, però il giocatore sta bene. Chiaramente ha studiato la pianese, cosa ci puoi dire sui nostri prossimi avversari? È una squadra che gioca a calcio, una squadra che raramente butta via la palla, ha buoni giocatori che possono fare la differenza, noi dobbiamo cercare di non dargli spazio perché loro partono col 4-3-1-2 di base, però hanno fatto pure il 3-5-2, quindi dobbiamo stare subito attenti e pronti a capire qual è il loro assetto tattico e poter prendere le misure. Però è una squadra che è propositiva, è una squadra che si diverte a giocare a calcio, noi dobbiamo fare altrettanto e cercare di mettere in difficoltà soprattutto anche nell'agonismo. Per quanto riguarda la tua squadra, se hai qualche defezione magari di qualche giocatore che non potrai portare per problemi fisici? No, problemi fisici no, tranne quelli che ancora devono recuperare, che voi sapete, quindi no, dovrei avere tutto a disposizione, oggi poi facciamo l'ultimo allenamento di rifinitura e di verifica per portare i 23 e quelli che porteremo saranno chiamati in causa per la partita di domani. Hai parlato dopo la partita di busto di scelta che avresti dovuto fare e come si è concretizzato questo tuo desiderato? Stiamo lavorando insieme al direttore, ho pure detto che per me è una decisione per cercare di ottimizzare gli allenamenti, per cercare di non avere dei tempi morti durante gli allenamenti perché in partita non ci sono tempi morti, ma soprattutto per portare avanti un organico dei 23 e 24 per cercare di proseguire l'annata con questi elementi qui che io scelgo, ma soprattutto c'è anche il dispiacere a livello umano di fare certe scelte che purtroppo non dipendono da me, ma come sapete tutti allenare 30 giocatori non è facile, quindi stiamo continuando a fare un po' delle scelte drastiche a livello umano, però per me sono di vitale importanza perché ho bisogno di portare il gruppo avanti e le scelte devono essere fatte. Proseguire nell'onda del 4-3-3? Sì, stiamo portando avanti comunque il 4-3-3 perché anche con la Propatria, pure avendo fatto due giorni di allenamento, però le azioni che abbiamo creato le abbiamo create frutto di quei due giorni lì, i ragazzi stanno rispondendo bene, c'è grande applicazione, grande voglia di fare, di imparare, quindi stiamo portando avanti il 4-3-3, ma soprattutto anche per dare sicurezza. Poi più avanti vedremo, ma diciamo che la linea è questa qui. Grazie, mister, buon lavoro.